Slamp è un'azienda che da 20 anni ha il compito di fare emozionare le persone accendendo una luce in casa. La cosa più bella è entrare in casa e apprezzare la luce, apprezzare soprattutto l'oggetto che è sorgente di luce. Quindi da 20 anni noi cerchiamo di far sognare le persone felicemente nella propria casa. Le novità del 2015 sono assolutamente originali, innovative e aspirazionali. Se la collezione aria disegnata dall'Archistar Zadid fosse un'immagine potrebbe tranquillamente essere una foto scattata su una metropoli attraverso le nuvole in un'alba in una mattina da un volo New York-Singapore, un'immagine meravigliosa. Se la Chantal di Doriana Massignano Fuxas fosse un dessert, immagino potrebbe essere un dolce con un cuore tenero al cioccolato perché l'aspetto architettonico esterno, una volta accesa la luce, rivela migliaia di sparkling, di luce e di ombre che veramente fanno sognare. Quindi un bel tortino al cioccolato con il cuore caldo. Se la collezione di Elisa Giovannoni, se la Elisa fosse un colore, immagino potrebbe essere un colore iridescente assolutamente perché è una collezione veramente croccante, vivida, accessibile e piena 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 di energie. Servirebbero 5 secondi per dare una sfogliata velocissima al catalogo in realtà perché l'offerta di Slump quest'anno è veramente molto trasversale. Devo dire che più che convincere le persone che le Slump sarebbero bene nella propria casa, sarebbero bene in realtà con loro, farebbero sentire molto bene loro perché l'emozione che riesce a creare una Slump in casa è veramente unica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.